ragazzi allora continuiamo con la sagra dei funghi siamo in autunno quindi funghi e zucca sono un colluvio perfetto i funghi attenzione non vanno mai lavati ma vanno spazzolati magari con un piccolo straccio umido con un coltellino togliamo via tutte le parti della terra di quello che c'è accanto ma mai lavato ok tagliamo abbastanza altini così non sottili 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 li passiamo in padella agli olio e prezzemolo poi facciamo una zuppa di zucca classica con un bel fondo di burro ci aggiungiamo la zucca tagliata a pezzi e la cipolla del brodo e portiamo a cottura frulliamo il tutto ok la passiamo a un colino la mettiamo in una bella zuppiera sopra ci mettiamo i funghi saltati in padella poi vogliamo dare una nota acida benissimo prendiamo dello yogurt magro ci mettiamo dell'erba cipollina dentro un goccio di acqua un fisico di sale un po di olio e poi nappiamo il tutto sopra così a gocce arancione marrone con i funghi e qualche goccia sopra di olio un piatto incredibile buonissimo vegetariano cosa volete di più dalla vita una ricetta di buona bambina ciao ragazzi alla prossima